Insieme per creare la cultura della sicurezza è il titolo delle giornate formative in programma il 4 e 5 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno organizzate dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli e la Camera di Commercio delle Marche con il patrocinio del Comune di Ascoli. Ne parliamo con Francesco Balloni, direttore della CNA Picena, Natascia Troli, vicepresidente Confartigianato Imprese Provinciali e Gino Palmizzi, tecnico della prevenzione nell'ambiente di lavoro dell'Ast. Direttore, il tema della sicurezza in continua evoluzione nelle imprese? Rimane un tema centrale, rimane un tema molto importante dove si è fatto molto ma sicuramente bisogna ancora molto lavorare. Nelle Marche sono stati riscontrati nel 2023 oltre 16.000 incidenti da lavoro, nella provincia di Ascoli oltre 2.200 e quindi è un sintomo dove sicuramente va posta un'attenzione importante. Cerchiamo di farlo nella stretta sinergia con tutti gli altri stakeholder territoriali proprio per dare una sensibilità e imprimere anche quella che è una volontà importante verso una cultura della sicurezza dove le imprese, i lavoratori e tutte le parti in causa devono lavorare. Vicepresidente, qual è la situazione per quanto riguarda i cantieri edili? Fortunatamente sicuramente ci possiamo ritenere soddisfatti in merito all'aumento di quello che è a livello economico l'attivazione di sempre più nuovi cantieri. Purtroppo però dobbiamo ammettere che c'è una grande carenza di mano d'opera specializzata. Quella mano d'opera che secondo noi siamo noi primi a dover formare. Questa è l'occasione per farlo. Ecco Ispettore, entriamo nel merito delle due giornate che vedranno anche delle scuole nella platea. Sì, abbiamo invitato gli studenti delle quarte e quinte classi proprio perché riteniamo che questa sia una materia che debba essere divulgata agli studenti già nella fase scolare in modo che nel momento in cui arrivano sul mercato del lavoro quantomeno hanno una preparazione di base ma che comunque costituirà il trampolino di lancio per le attività che faranno successivamente. Abbiamo organizzato quest'evento strutturandolo con due storie, formalmente due storie, una che riguarda un incidente lavorativo in un cantiere edile quindi con caduta dall'alto dove il lavoratore purtroppo per carenza di misure di sicurezza cade da un edificio e riporta un politrauma che poi gli causerà nel futuro delle invalidità permanenti. La seconda storia invece è strutturata in un'azienda che si occupa di una procedura lavorativa di tipo chimico dove l'operatore utilizzando una sostanza che non aveva mai utilizzato ha un piccolo incidente dal quale purtroppo ne avrà delle conseguenze importanti perché la sostanza chimica che utilizzava in quel momento non era stata valutata a livello di valutazione del rischio e quindi lui non conosceva esattamente quali potessero essere i rischi a cui andava incontro al momento in cui la manipolava. Ecco, due giornate che daranno anche dei crediti formativi. Quanto è importante diffondere questa cultura della sicurezza, Vicepresidente? È importantissimo soprattutto perché questo convegno si propone di mettere insieme tutti i soggetti che compongono il sistema sicurezza, dai coordinatori quindi tutti gli ordini, architetti, ingegneri, il collegio dei geometri, tutte le imprese quindi datori di lavoro, tutti i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, una sinergia che siamo sicuri porterà un ottimo risultato. Direttore, ricordiamo le date e un invito a partecipare. Assolutamente, 4 e 5 aprile, il luogo sarà il Ventidio Basso a Scolipiceno, l'iscrizione è nella locantina attraverso il QR code, basta registrarsi, siamo quasi sold out, ci teniamo a dirlo perché è importante appunto farlo in tempo utile. Grazie, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento su Radio Azzurra.